Benvenuti a tutti ragazzi a questo The Ninja Show Oggi horror game quindi sapete che non ci vogliono gli occhiali Giocheremo I hate you Diciamo che l'ho già provato prima di fare questo video Cioè un secondo prima ed è successo questo No 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 esci giocati Alt f4 Don't fallate Bitch Cosa? Dai gioca c'è chi ti paura ancora Ma io mi cago il dozzo ma noi ci divertiamo LOL è stato masochismo in sta web a proposito parliamo anche di questa nuova pagina di bing di merda che cazzo mi serve cronium ma vaffanculo bing non lo usa nessuno 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 perchè bing è una merda e così io praticamente mi sono prostituito per la mia prima volta e fu così che io scappai da quel pedofilo che cercava di prendermi faceva male però alla fine non era neanche così male come pensano tutti alla fine dovreste provarci anche voi dopo tutto oh super mario world come on non so perchè ho paura oh shit che cazzo te lo fa wow no va avanti da solo va avanti da solo la vita è una cosa bella ti capita solo ok ok che cazzo fai vai giù giù mario non voglio andare nel buco no oh god no oppure oppure non posso andare da nessuna parte moriremo tutti quanti oh cazzo oh cazzo calma non sto muovendo nessuno non sono invincibile te non è la lava allora quando è che mi devo spaventare my name is mario calma calma ma che cazzo di urlo oddio perchè è lento Perché non muori Sono invincibile E così ho scoperto che Potreste evitare queste cose Ok Perché penso che appena prenderò quella cosa Morio No Pensavo che potevamo essere amici Ma Quando pare no La musica? Dov'è la musica? Non mi sento confortevole senza musica Ok scherzavo togli la musica Oh man Flappy bird Flappy bird It's flappy bird It's flappy bird This game is burning as shit Fuck that shit Uh oh Uh oh Uh oh Hello It's me I was wondering Hello from the other side Ok Non prenderò più mister 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 Coso Gioco di merda Vai avanti Che mi sta esplodendo la vena Del buco del culo Che cazzo fai fermo? Pensavo di workare alone Mi ha ucciso Oh 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 Come vuoi ti faccio il culo? Mo ti spacco il culo No Luigi No Esti ghiacci Non si sa mai con questi giochi Eeeh Macarena Eeeh Macarena Eeeh Macarena Eeeh Macarena Ben di colorcia sti giochi Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie.